Gabri, siamo qua dentro a fare il lascondino su Mignocrafto! Ehi, sei contento? Sì, sì, contentissimo! Siamo venuti fino a questo castello, che poi peraltro in questo video ci saranno di nuovo i minigiochi su Minecraft. E ovviamente questo castello è molto importante, perché si raccontano leggende paurose su di lui, quindi dovevamo stare attento e soprattutto... Sì, non lo sapevo! Sì, e tu devi alzare proprio la voce, perché sennò poi dopo... Eh, sì, eccomi, adesso sì... No, non stai azzando la voce! Perché ero più lontano! Eh, infatti sei super... Ero là giù in fondo! Sì, sei super... ma guarda che stai ancora parlando basso tu! Ma come? Gabri, stai abbassando troppo la voce! Idiota! Ma in realtà io stavo parlando forte! No, non stai parlando forte! Allora... Eh, si sale ancora, porca puzzarda! Forza, vieni, 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 abbiamo tempo da perdere, perché qua ci sono un sacco di cose, di posti segreti in cui ci possiamo nascondere, perché sì, giocheremo un nascondino molto bello, secondo me, nascondino! A te piace, Gabri, il nascondino? Lo adoro, è bellissimo! Bene! Bene, allora... Parto a nascondere io, cioè dico a cercare io, quindi tu nascondi! Va bene, vado, via! Intanto io sono qua, che cammino, e poi comunque non posso sentirlo, a meno che non usiamo tipo il walkie-talkie, che è tipo la mia mela d'oro, il walkie-talkie, che peraltro posso anche mangiare quando ho fame, perché ne ho tanti walkie-talkie. Quindi, bene, sono contento così. Ah, poi qua ci sono un sacco di alberi, alberelli, alberacci, alberoni, strani, molto strani devo dire, ma molto particolari e molto belli. Mi fanno piacere questi alberoni. E poi dopo qua ci sono chissà perché. Qua c'è un ponte, poi c'è molta nebbia, infatti non si vede praticamente niente. E questo castello chissà dove porta. Poi spero che i Gabri non si nascondano in posti troppo difficili perché non avrò voglia di... In realtà posso usare il mio potere di super cosa, come che si dice, super spectator. Trovatemi il Gabri che si nasconde in una di queste stanze, ragazzi, forza! Secondo voi dov'è Gabri, eh? In questa stanza, forse? O in questa stanza? Beh, ditemelo, ditemelo, scrivetemelo nei commenti. E ovviamente vi lascerò il tempo per scrivere dove si trova Gabri. Quindi vi lascerò 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Bene, avete scritto nei commenti. E non barate però, sapete, non barate. Adesso vi dirò dove si trova nonno. Beh, nonno si trova... No, si troverà qua, ovviamente, ovviamente. Eccoti qua, ciao Gabri. Yei, vi ritrovate. Cioè, nel senso, posso vedere tutto quanto, insomma. Posso vedere tutto quanto. Io posso essere super pro. Quindi, ovviamente, barerò come al solito. Ma magari in questi barili hanno nascosto qualcosa. No, non hanno nascosto assolutamente nienda. Allora, andrò a cercare Gabri, prima di tutto, normalmente. Perché così poi dopo non si insospettisce. Anche se io un po' di paura ce l'ho. Perché sinceramente non vorrei... No, che da questa parte si esce. Dicevo, un po' di paura ce l'ho. Perché non vorrei che lui scoprisse i segreti. Ci sono qua dentro. Scusa, dove... No, seriamente, dove è andato? Cioè, nel senso, come si fa ad andare... Ma... Si sta avvicinando, speriamo che non mi trova. Ma dove sta... Dove chi sta parlando? Ma io l'ho sentito, ma... Cosa? Cosa ho sentito? No, 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 aspettate, rai. Cioè, io... Io... Allora... Oh, porca puzzona schifosa. Dovemmo capire bene dove si trova. Chissà dove sarà mai. Sarà qua dentro, per forza. È qua, dov'è, dai. L'ho sentito parlare. Che puzzone. Forse sarà in questi quadri. Posso che... Ma io può... Ah, forse qua sotto, magari. Esatto, può essere che magari andando qua sotto... Ci sia qualcuno, dico, sotto questa scala. Io spero vivamente di sì. Perché, sinceramente, mi sto anche chiedendo se sto andando giusto. Perché non... Non è che sono proprio convinto, dato che questo castello sembra... Enorme! Eh... Eh... Cioè, pure l'eco, avete... Cioè, si è sentito molto, no, l'eco? Mamma mia, enorme! Eh... Eh... Vabbè, basta, sennò... Cringe. Però, ehm... Aspetta che chiamo Gabriel Walkie Talkie. Pronto, Gabriel? Sì, Dunis! Allora, dimmi un attimo, dove sei finito? Eh... Non nascondi io, bellissimo. Cosa vuol dire? No, già, mi devi dire assolutamente tutto. No, però, Gabriel, tu devi alzare la voce, sai? Ah, mi sta scaricando il Walkie Talkie. Si è scaricato... No, eh... Spero ti si ricarichi immediatamente perché non la scampi in questo modo. Avvicinati al Walkie Talkie, se no non si sente bene. Mi si è ricaricato. Dunis, dove si trova il tesoro? Il tesoro, caro Gabri, beh, lo dovranno trovare i nostri amici nei commenti, quindi vi daremo chiaramente 5 secondi qua dentro. Cioè, dico qua... Insomma, in uno di questi cosi si troverà il tesoro, forse ve l'ho spoilerato, chissà. E praticamente, voi dovete trovarlo, dovrete indovinare nei commenti se avete voglia, però senza barare i puzzardini. Il tesoro dove si trova. Quindi vi darò 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1... Bene, abbiamo finito. Adesso, forza, adesso vi farò vedere dove si trova il tesoro e che tesoro è. Secondo me è qui. Ok, va bene, tu scava, scava, scava. Sono molto contento di vederti, guarda, io troverò... Oh, oh, ho trovato il tesoro. E tu sei caduto purtroppo nella lava perché sei scemo. E meno male, allora parla, vai. Allora, io sono in nascostissimo in un posto che non dirò mai. Ok, va bene, allora sono contento che non mi dirai mai perché, niente, ho chiuso il walkie talkie. Quello, l'ingenuo, puzzone, scurreggione di fate e fatate. Praticamente non sa che io adesso posso usare le mie magie. Oh, sono vicino a lui, chissà cosa dice. Sentiamo adesso. Adesso non sta parlando perché probabilmente penso che, tipo, stia cercando di stare zitto. Però adesso se io gli compaio dalle scale... Che bello questo posto, non sapevo dell'esistenza. Eh sì, non sapevi. Brutto, schifoso, ti ho preso ormai. Ti ho preso. Sì, ti ho trovato, ero proprio là dietro, sai? Ah, sì, sì, sì. Quindi, niente. Adesso... Ora cercherò io. Vado, vai, nasconditi, via, nasconditi. Sì, ma stai calmo, scusami, cioè nel senso, boh, non lo so, mi voleva uccidere. E poi comunque sbaglio o stava parlando basso di nuovo, cioè... Nel senso che questo Gabriel è proprio puzzone schifoso. Ok, bene, bene. Non so che cosa stavo facendo, non riesco nemmeno a camminare diritto. Forse perché avrò camminato troppo, avrò corso. E poi qua ci sono una serie di torce che comunque mi sembrano molto strane. Perché questo tipo di torce io non le ho mai viste in giro in questo castello su Minecraft. Non le ho mai viste, mai viste, mai viste. Quindi non saprei proprio cosa pensare. Oh, però qua dove si va? In giro! Si va in giro. Sì, esatto, qua ci sono tipo passaggi segreti. Magari si va nelle segrete del coso qua, del castello. Che caspita, ne so io cosa dovrebbe essere questa cosa. Poi qua c'è un camino. E da questa parte, dove che si va? Ok, ah, sto trovando dei barili. Ho paura però dopo che Gabriel, se vado troppo in là, non mi troverà mai. Però, in realtà, io potrei usare il mio trucco anche per spiarlo mentre mi cerca. Perché ovviamente io non è che sto fermo. Io ho le pulci nel sedere, non posso stare fermo. Minimamente. Cioè, se sto fermo, probabilmente, il mio cervello mi dice di muovermi. Però qua io sto continuando. Ah, questo stupidone, scurreggione, puzzardo, cagone. Non mi troverà mai, povero Gabriel. Gli sto dicendo le peggio cose. Lui, ignaro di tutto quanto, non lo sa, poverino. Però potrei usare il walkie-talkie. Pronto, Gabriel, mi senti? Eh, sì, ti sento. Dove ti sei nascosto? Eh, ormai sono tipo super via proprio. Ah, sì? Sì, mi sono nascosto. Beh, io ti troverò, sicuro. Ti dovrò trovare. Ok, va bene. Allora ci sentiamo. Trovami, trovami. Forza. Ah, ingenuo. Purre. Purcone. Purcone. Ah, non mi troverà mai. Ok, lo so io. Anche perché da mezz'ora che sto camminando mi sa che mi son perso. Può essere questa cosa. Eh, potevi essere un po' un imbecille. Però, vabbè, o dopo tutto ognuno ha un po' un imbecille, no? Giustamente, un po' un imbecille ognuno. Spero che vi stiano piacendo i minigiochi su Minecraft. Sono molto belli questi minigiochi su Minecraft che noi stiamo portando. Intanto, ci sono... Oh, è qua sotto dove si va. Però è un po' illegale andare fuori dal castello. Non si dovrebbe andare. Cioè, nel senso, è una cosa che non si fa. Se si fa, probabilmente si viene puniti penalmente, almeno su Minecraft da Doonis. Dico penalmente, perché chiaramente Minecraft avrà delle regole di Doonis, però chiaramente. Perché non... Cioè, nel senso, Minecraft. Però posso usare la Spectator, no? La Spectator la posso usare. E posso andare, che è praticamente la modalità spettatore. Spettatrice. Minecraft spettatrice. Praticamente, ora posso tipparmi da Gabri. E lo sto spiando. Cos'è che starà facendo? Ok. Sto vedendo che sta camminando verso questa strada. Forse ha trovato il modo per trovare, appunto, la strada in cui sono andato io. Però mi sa che è un po' imbecille. Perché si è... Fu bloccato dentro le alghe. Che scurreggione, guardatelo. Non riesce nemmeno a saltare le cose perché scurreggia. Ha un culo troppo grasso per poter fare le cose. E poi sta aprendo queste cose e mi sta dando molto fastidio. Aspetta che adesso uso il walkie-tory. Pronto? Dunis. Ehi là, cosa stai? Dove sei? Eh no, ti sto cercando da due ore, però non ti trovo. È colpa tua che non mi trovi. Perché non mi trovi? Ma no, non è vero. Sì, certo. Vabbè. Avrei scelto un nascondiglio illegale? No, io. No, quando vai? Eh esatto, non mi permetterei mai. Cioè, Gabri, come ti permetti di dire... Di giudicare la mia persona. Noi non sto neanche più trovando la strada da dove sono arrivato. Eh perché? Puzzi. Hai le dita piccole. Perché scusa? Hai le dita piccole. Eh no, ho trovato l'uscita. Hai trovato un'uscita, però. Sì, ti troverò, ciao. Oh, Santa Maria. E sei di nuovo incavolato di nuovo, forse. Forse perché si è arrabbiato perché, non lo so, pensa di trovarmi. In realtà non mi troverà mai. Oh, ma questa parte del castello io manco la conoscevo. Chissà che cosa starà pensando lui adesso. Probabilmente starà pensando in... Sto trovando Dunis. Cioè, lo sto trovando praticamente. E sarà abbastanza sicuro. Oddio, ho avuto un leggero rospo che parlava in altre lingue dentro il sedere. Però, no, una cosa brutta questa in effetti, ora che ci sto pensando. Non dovevo dirlo. Mi sono sabotato da solo. Porca puzzarda. Però è meglio che io metta altre musichette, perché sono molto carine le musichette. Non mi arrenderò mai, non troverò quello là. Ma come si permette di dire quello là? Ma scusami. Ma io non so, veramente. Vabbè, ok, basta. Mi faccio vedere perché sono arrabbiato adesso. Gabri, dietro di me. Ah, ti ho trovato. No, non mi hai trovato. Scusa, mi sono fatto vedere io. Non mi avresti mai visto. E poi ti ho sentito, sai. Ti ho sentito quando hai detto quello là. Come ti sei permesso di dire quello là? Ah, quindi eri qui vicino. Sì, sì, però non mi hai visto, quindi non mi hai trovato. Eri sull'albero. No, non ero sull'albero. Non ti dirò dove sono, perché sennò poi tu mi rubi il nascondiglio. Non vale, dai. Che schifo. Ma qua possiamo nasconderci qua adesso. Ok, va bene, vai a nasconderti. Io intanto, insomma... Va bene, vado. Ma in realtà questo... No, in realtà abbiamo finito, Gabri. In realtà... Ah. Non ho più voglia. Cioè, nel senso, vai a quel paese. Ma no, ma io voglio ancora giocare. È troppo tardi. Ehm... Ah, dei... Giocherò da solo. No, no. Vieni qua che è bello qua. Vieni, vieni, vieni. Praticamente bisogna sempre stare sul bordo del... Perché vedi, qua sotto, se tu guardi... Io dove sto buttando questa torcia... Lo sapevo. No, lo sapevi. È morto, purtroppo. Addio.